Non c'è niente di peggio di un bugiardo. Tutti la pensiamo lo genio. Ma perché? Perché un tale atteggiamento nei confronti di qualcuno che cerca di ingannarci? Le bugie ci disgustano. L'incredulità viene processata dalla corteccia cingolata del sistema limbico e dall'insulante l'interiore. Le stesse aree del cervello che elaborano sensazioni viscerali come il dolore e il disgusto. E questo spiega perché odiamo i bugiardi, ma anche perché gli esseri umani desiderino con forza credere in qualcosa. Che si tratti di Babbo Natale o di un fatto scientifico come la gravità, il cervello ci ricompensa emotivamente quando crediamo. Credere ci fa sentire bene, confortati. Ma come possiamo fidarci delle nostre convinzioni quando il cervello offre loro delle tangenti emotive? Equilibrando il tutto col pensiero critico, mettendo tutto in discussione ed essendo sempre, sempre, aperti a nuove possibilità.